Ogni giorno noi facciamo numerosi incontri e che lo vogliamo o no, le persone che incontriamo avranno un proprio sguardo su di noi, uno sguardo che chiaramente dipenderà da come noi ci presentiamo ma anche dipenderà dalla storia che quelle persone hanno alle spalle, dalla condizione nella quale esse vivono. Può darsi che troveremo uno sguardo, non so, indifferente, forse perché chi ci incontra non ci presterà attenzione, può darsi che incontreremo uno sguardo forse un po' sospettoso, magari impaurito, forse addirittura arrabbiato nei nostri confronti. Oppure potremmo trovare uno sguardo che ci manifesti simpatia, magari qualche sguardo che si manifesti interesse nei nostri confronti e ci comunichi serenità e pace. Credo che sia facilmente comprensibile come da tutti gli esempi di sguardi che ho appena fatto, l'ultimo sia quello che consapevolmente o inconsapevolmente tutti ci aspetteremo di incontrare. Perché? Perché tutti vorremmo essere come avvolti da una presenza che ci protegga, che ci manifesti vicinanza, che dica la bontà di quello che facciamo, quasi come se ci approvasse. E oggi noi celebriamo, al primo dell'anno, una festa importante, Maria, Madre di Dio, il Signore Gesù Cristo che è il Figlio di Dio. E nella liturgia oggi, nella prima lettura della Santa Messa, abbiamo ascoltato nel Libro dei Numeri come Aronne, il fratello di Mosè, chieda a Dio una benedizione per il popolo. Il Signore faccia splendere per te il suo volto. E questo cosa denota? Denota l'interesse di Dio per il popolo. La benedizione che cos'è? Benedire vuol dire dire bene. E se noi ci aspettiamo che Dio dica bene di noi, vuol dire che noi ci auguriamo di avere il suo consenso, la sua approvazione e dicendo che possa splendere il volto di Dio su di noi, è come se noi ricevessimo la sua luminosità, è come se ricevessimo la sua energia per farci vivere meglio la vita che abbiamo. Diventa abbastanza semplice capire quindi che se noi riceviamo la luminosità, l'energia di Dio, la sua approvazione, noi ci sentiamo bene. Quindi viviamo nella pace. Che cos'è la pace? La pace non è nient'altro che la distensione del nostro animo. La pace è la distensione del nostro animo. Perché? Perché sai che c'è una presenza accanto a te che ti protegge e che ti aiuta di fronte alle varie minacce che incombono sulla tua vita. Un ragionamento del genere ha ancora più efficacia nel fatto che noi siamo all'inizio di un nuovo anno e tenendo conto di quello che è appena passato con tutte le aggravanti che ha apportato. Anche nel Vangelo abbiamo visto e ascoltato meglio come Maria, dopo aver incontrato i pastori, i quali hanno detto a lei quello che gli angeli avevano loro annunciato, Maria meditasse e custodisse tutte queste cose nel suo cuore. Quali cose? Appunto, dicevo, quelle che gli angeli hanno riferito ai pastori circa l'identità di Gesù. Il figlio di Dio che si rende presente nella storia grazie alla disponibilità di Maria. Noi oggi ci scambieremo tanti auguri, in questi giorni anche sui social impazzano i vari messaggi, a volte addirittura un po' stucchevoli, un po' mielosi, che ci augurano ogni bene, che sarà un anno fatto di tante belle cose, però poi siamo anche abbastanza concreti e ci rendiamo conto che non sarà possibile che tutto andrà bene, che le cose siano tutte rose e fiori, perché poi la vita ci presenta ogni tanto il conto. Ma mi piacerebbe che ci ricordassimo una cosa, e forse potrebbe essere anche l'augurio migliore che ci scambiamo, che cosa? Di ricordarci che noi siamo sotto lo sguardo benevolo di Dio. Sapere che Dio ci guarda benevolmente è per noi un segno, una speranza, una garanzia che con Lui affronteremo quello che il 2021 ci riserverà. Auguri allora e ricordiamoci, noi siamo sotto lo sguardo benevolo di Dio. Buon anno! Grazie a tutti!